Musica Eccoci di nuovo in studio live dalla redazione di Dance Corner Io sono Christian Vlad, la vostra guida in questo viaggio in tutto ciò che riguarda la musica da club, il mondo della musica da club Ma andiamo a vedere le immagini del prossimo video Il video è una serata di Benny Benassi, il Benny Benassi and Friends Primo appuntamento di questo party che si è tenuto a Reggio Emilia dove ha visto protagonista, oltre a Benny, Rivaz, Congo Rock e Pinky Spunk Andiamo a vedere le immagini insieme, è veramente un delirio totale Grande serata, grande Benny Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti